Da venerdì scorso via le panchine dai giardini pubblici. Non siamo treviso nella marca ma a Ferrara dove la nuova giunta leghista ha messo al primo punto la sicurezza della città e la lotta allo spaccio. Una storia già vista diremmo noi dal Sile ma nuova per i cittadini in riva al Po che come da copione non ha mancato di sollevare un fiume di polemiche. Da tempo la città degli estensi è nella morsa dello spaccio, tanti punti caldi con i giardiniti sotto il grattacielo o di Corso Piave dove lo scambio è quasi sfrontato. Il vice sindaco, segretario locale della Lega e assessore della sicurezza Nicola Lodi, forte di una campagna elettorale a tolleranza zero, ha deciso di applicare la cura a Gentilini eliminando le panchine dove i pusher attendono i clienti, puntando sull'impossibilità di nascondere lo stupefacente in caso di controllo ma soprattutto per stanchezza visto che a questo punto il commercio dovrà essere fatto esclusivamente in piedi. E come per Treviso nel 1997 anche Ferrara si spacca tra chi è favorevole all'intervento e chi invece parla di sconfitta per aver levato un servizio ai cittadini senza peraltro aver eliminato la piaga della droga. Per Gentilini comunque una nuova soddisfazione per azioni che hanno fatto scuola. Io ho precorso i tempi 25 anni fa e adesso tutti copiano. Perché levare le panchine per eliminare gli spacciatori? No no, le panchine concorrono per gli sfaccendati e per coloro che non hanno un lavoro, che non rispettano la legislazione. E al Partito Democratico ferrarese che contesta l'intervento, Gentilini ricorda come anche un sindaco comunista come Zanonato abbia nel 2007 di fatto levato le panchine di Via Anelli per gli stessi motivi. Ma lo scerifo di Treviso va oltre, ha anche un consiglio per gli emiliani del Po. Io ho sempre previsto il controllo della sicurezza.